Cinque anni senza il Tribunale di Rossano. Una situazione paradossale, conclamata, che ha mandato in tilti il sistema giustizia della Calabria del Nord-Est e non riconosce ai cittadini ionici uno dei fondamenti della Costituzione, che è il diritto alla giustizia. Intanto, l'accorpante Tribunale di Castrovillari è al collasso, sia dal punto di vista logistico che del carico di lavoro, tanto che è concreta la possibilità di un totale stallo dell'attività giudiziaria. Credo che la riforma dei Tribunali è servita solo ad allontanare ulteriormente la giustizia da alcuni territori molto sofferenti. E il risultato è che sono aumentate le estorsioni, sono aumentati i delitti, sono aumentati i delitti in genere, sono aumentate le intimidazioni attraverso incendi di autovetture, eccetera. Credo che la delinquenza ne abbia tratto un forte giovamento. C'è poi la questione legata ai giovani avvocati della Sibaritide, professionisti che avevano investito studi e prospettive verso l'attività forense e che oggi, causa proprio le difficoltà logistiche per raggiungere il Palazzo di Giustizia del Pollino, aggravate da un sistema trasporti e viario inadeguato, hanno abbandonato l'avvocatura. Vivo con estrema sofferenza quella che è la condizione dei giovani avvocati, perché appunto si sono dovuti accontentare di occupazioni, diciamo, surrogate. Si potrà lasciare senza Tribunale Corigliano Rossano la terza città della Calabria? E questa è una delle grandi questioni che sarà chiamata ad affrontare e risolvere, con il sostegno del Governo nazionale della Regione, la prossima amministrazione comunale. Marco Lefosse per la CINUS24. Marco Lefosse per la CINUS24.